I tracciati sono a nostra discrezione come grado e sono identificati a seconda del colore, bianco, giallo, rosso, verde, blu, nero. Ogni colore c'è un punteggio che lo trovate sul foglio dell'autogertificazione. Quelli che raggiungeranno i 5 sia per le donne che per gli uomini il punteggio più alto domani faranno la finale. Questo lo facciamo senza mani noi, capito? Perché noi veniamo dall'Abruzzo e quindi siamo fortissimi, vero? Ci fregate! Buon divertimento e grazie di essere venuti! Buon divertimento e grazie a tutti! 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 Buon divertimento! Buon divertimento e grazie a tutti! Buon divertimento e buon divertimento! Matti lì si rotta una presa, troppo se rotta mi parla Scarpetti nuovi mi scelgo? Buongiorno Occhio è che lo muro lì Che tesaggio più di me Occhio le piante che Si Angova, angova Vai zì Angova, angova Guarda che c'è lì Adesso mi rimetto le scarpe e mi riesco con le mani A lei portalo via Vai vai A lei Piano, respira, respira, respira 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 Basta la nera di culo? No La lupire non dè un cazzo Lo mangio, lo mangio Ce n'è un'altra nera eh? Eh, è un'altra nera eh Vai su, vedici un attimo Eccolo Bravo Eccolo Guarda, guarda Poi col piede, prego il piede Eccolo Bravissimo Bravissimo Eh la cazzo con i denti Buongiorno Che bella eh Torni qua, la parte Questa altra parte Questo lo posso prendere? No Tu non ti prendi la parte che sta qua all'interno No No Non ti prendi la parte? Ma laura Che è merare la roba sulle mani Eh, bella Ora Grazie a tutti Ecco, fai, vai che hai finito, finito, vai Se la vuoi scavalcare si trova il zumba C'è l'ultimo grande di scavalcare? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti